Benvenuti in un nuovo episodio dedicato al drone da gara come potete ben vedere Oggi andremo a configurarlo, ci serviranno ben due programmi BH Eli e Betaflight Configurator Che trovate qua sotto in descrizione, basterà scaricarli, sono gratuiti Una cosa che vi ricordo, dovremmo togliere le eliche perché dovremmo anche capire i motori Solitamente se li avete montati come me, due motori gireranno in un verso sbagliato Mentre gli altri due girano nel senso giusto, quindi basterà andare a cambiare il verso Operazione che faremo, andremo ad aggiornare la FC, aggiornare gli ESC Anche se non ce ne è bisogno perché ci arriveranno già aggiornati nell'ultima versione Ci servirà un cavo micro USB, il nostro radiocomando che avremo già configurato Come abbiamo visto nel video precedente E una batteria anche non completamente carica Perciò io dico di iniziare subito e ci spostiamo sul PC Prima di procedere andiamo subito a togliere le eliche del nostro drone In quanto quando le andiamo a collegare è sempre meglio toglierle Approfitto subito per dirvi come vanno montate le eliche È molto semplice, a parte che troviamo anche il disegno su... Comunque queste eliche devono girare nel verso della videocamera Quindi questo verso qua Mentre questo deve essere come questa Per cui gira nello stesso verso che è anti-orario Mentre queste due qua devono girare in senso orario Quindi è un po' come una X Comunque trovate lo schema su Betaflight dopo ve lo faccio vedere Andiamo a smontarle Queste eliche qua più le serrate e meglio è Togliamo anche proprio il bulloncino In modo tale che non ci salti poi addosso Ora abbiamo tolto le eliche Non ci resta che andare a collegare il nostro cavo appunto alla porta Ora possiamo anche tenerlo senza batteria Per cui lo appoggiamo Mi raccomando ora appoggiatelo ben in piano In quanto dopo voi dovremo andare a fare la calibrazione Per cui tenetelo più in piano possibile Eccoci sul nostro pc con il drone collegato come abbiamo visto prima Ora andiamo a configurare, a fare la prima configurazione generale con Betaflight Lo apriamo Apriamo magari tutto schermo Per prima cosa dovremo andare a connetterlo Dovete andare a cercare la porta giusta Magari avete più porte Cercate quella giusta E poi schiacciate connetti Una cosa molto importante è avere il cavo dati Perché molti cavi micro USB sono solamente cavi di ricarica Per cui fate attenzione La prima schermata Eccoci qua Prima di iniziare a configurarlo Dovremo andare nel CLI Andare a vedere la versione della nostra FC E come si chiama Quindi andiamo a digitare version E diamo invio Eccola qua Abbiamo appunto la Fury F4 OSD Versione 3.5.4 Ce l'andiamo a segnare su un foglio Dopo aver segnato su un foglio il nome della FC E il firmware che abbiamo installato Andiamo a digitare BL E premiamo invio Vediamo che il drone si è disconnesso E è trendato in DFU Per cui ora potremo andare a aggiornare il drone Flash firmware Dopodiché dovremo andare a selezionare qua Fury F4 OSD Basterà cercarlo Sono in ordine alfabetico Dopodiché dovremo andare a selezionare la versione del nostro firmware Per cui Ora io ho la 3.5.4 E' uscita la 3.5.7 Per cui ne è uscita una nuova Anzi molte nuove Per cui andiamo a selezionare l'ultima Dopodiché carica firmware online Qua in basso Ce lo sta scaricando Perfetto Andiamo nell'ultima schermata qua In modo tale che poi vedremo il caricamento E andiamo a fare flash firmware Perfetto Ora sta cancellando il vecchio firmware E sta installando appunto il nuovo firmware Programmazione riuscita Ora dovremo uscire da quella schermata Andiamo su benvenuto E proviamo a riconnetterlo Ora dovremo andare a calibrare il drone Calibrare accelerometro Fate bene attenzione Il drone dovrà essere perfettamente in piano Io l'ho già calibrato Per cui lo tengo così E poi dovrete schiacciare Calibra accelerometro E lui Potete vedere che qua Si raddrizzerà perfettamente Andiamo a vedere le porte Le porte Fate ben attenzione A mai togliere questa Perché se togliete questa Non potete più connetterlo al computer Quindi è un problema Dopodiché Andiamo ad attivare la UART1 Questa qua Andiamo ad attivare E poi dovremo andare anche Attivare Sulla UART2 Qua periferiche TBS Smart Audio In modo tale da poter poi controllare Anche sul visore Certi parametri Che farò un video dedicato In basso a destra Mi raccomando Ogni pagina Ogni valore che andiamo a variare Salva e riavvia In basso a destra Per cui schiacciatelo E poi dovete riconnetterlo Andiamo a fare la configurazione Come potete vedere Qua avremo Il senso dei motori Quindi Se non vi ricordate più Come girano i motori Come montare le eliche Beh qua Avrete il vostro schemino Andiamo a vedere questa schermata ESC Dovete mettere DSH O T600 Motor stop In modo tale che In certe funzioni I motori Quando è armato Non girano Molto bene E poi Qua lo lasceremo 4,5 Sotto configurazione sistema Dovremmo andare A mettere 8 kHz Frequenza Aggiornamento Giroscopio E 8 kHz Frequenza Di loop Del PID Perché il nostro processore Supporta queste frequenze Andremo ad attivare Accelerometro Qua Arma Io vi consiglio di mettere 180 In quanto Anche se è ribaltato Magari su una pianta Voi lo potete muovere un po' E lui cade dalla pianta Per cui Si arma sempre In qualsiasi posizione Lui sia Il nome Mettete il nome Che più vi aggrada Ho messo 215 Ricevente Riceventi Di tipo seriale Spectrum Quindi questo qua Se avete Comprato Questa radio qua E la mia ricevente Dovete mettere Questo protocollo Provider S-Bus Qua Andremo ad attivare La telemetria OSD Antigravity E Dynamic Filter Qua sotto In pratica Io non Li ho lasciati Come sono In pratica Il buzzer Che abbiamo montato Vi bipperà Per tutte queste cose Se volete Andarle a leggere Dopodiché Andiamo a salvare E riavviare Sempre Mi raccomando Se no perdete Tutte le modifiche Sensori batteria Niente Failsafe Veramente Molto importante Lascia E cadere Quindi dovrete Selezionare Questa voce Di solito È già selezionata Comunque Salva e riavvia In basso a destra Messa a punto Dei PID E qua Una nota Dolente Come avete potuto Vedere anche Dalle Instagram Stories che ho pubblicato Se non mi seguite Fatelo Ve lo lascio qua sotto Il mio Instagram Io ho cercato Di regolarli Nel miglior modo possibile Con la GoPro Anche senza GoPro Funzionano Quindi proporzionali Integrali Derivato Del roll Del pitch Del pitch Del pitch Vedete questi valori O provate Quelli originali E vedete Come si comporta meglio Quindi 47 45 36 60 55 35 67 45 18 Secondo me Con questi valori Il drone Vuola veramente Molto molto bene Poi se più avanti Trovo dei valori Migliori Vi aggiorno I PID Vanno trovati E vanno in base Alle eliche che montate Se voi montate Le mie stesse eliche Quelle che vi ho consigliato Provate anche questi PID Anche se avete montato Un action cam davanti Ancora meglio Dovrebbe essere Praticamente uguale A me Per cui il drone Volerà molto molto bene Mentre i rate Sono soggettivi Ognuno di noi Dovrà trovare Appunto I rate Che più ci piace I rate in pratica Saranno Come si comporta Il movimento Degli stick Del nostro Radiocomando Potete provare Tranquillamente i miei Quindi andare A cambiare Rate RC Io ho messo 1.45 Io 1.05 Super rate Ho messo 0.70 0.70 0.65 Mentre Esponenziale 0.22 E 0.10 Provateli Secondo me È un buon compromesso Sia per fare i trick Quindi Capovolto Ma anche per volare Stabile E molto molto Fluido E lineare Per cui Provateli Qua sotto Troviamo L'antigravity L'ho lasciato Normale 5 Come da Betaflight L'antigravity È che quando Andiamo a togliere Gas Con lo stick Lui Mantiene La posizione E fa ruotare Le eliche A una certa velocità Per mantenere Più la posizione Secondo me 5 Forse Io lo abbasserei Magari 4.5 Salva Salvate sempre Andiamo nella ricevente E qua abbiamo Tutti i nostri canali Un'altra cosa importante È il punto morto Lo metterei a 5 Punto morto Dello stick In questo modo Non la percepisce Subito Magari abbiamo Un piccolo Tremolio E Il drone Non lo riceverà Perché abbiamo Messo questi valori Oppure Il nostro radiocomando Non è tanto preciso E ci Limerà Questi valori Dopo Andremo a fare Tutte le regolazioni Del caso Del roll pitch Io E gas Molto importanti Per avere Un drone preciso Modalità di volo Per la modalità di volo Dovete andare A collegare La batteria Al drone Perfetto Mi raccomando Heliche smontate Accendere Il radiocomando Andiamo un attimo Nella ricevente Nella schermata precedente E come possiamo vedere Il drone Si muove Andiamo subito A regolare Il roll Pitch E io Cosa vuol dire Ad esempio Prendiamo il valore Del pitch Quando noi avremo Lo stick In questa posizione Il pitch Dovrà essere A 1500 Quando noi Andiamo al massimo Deve essere A 2000 Quando lo stick Sarà rivolto Verso il basso Dovrà essere A 1000 Ma come facciamo A regolarlo? Molto semplice Faccio vedere Subito Magari faccio vedere Il pitch E poi voi fate Tutti gli altri Roll Yow E gas Perfetto Ora andiamo A regolarli Come si fa? Dovete montare Nel menu della radio Quindi premere Le tre barrette E puoi andare Nella pagina 7 di 12 Ok eccoci qua Andiamo a regolare Canale 1 Quindi premiamo Modifica Come facciamo Andare a capire In pratica Andiamo a muovere Il canale centrale Offset E vediamo Quale si muovere Quindi il canale 1 Sarà il nostro Roll Perciò Andiamo Su betaflight E andiamo a mettere Il roll Perfettamente A 1500 Nel mentre Portiamo anche Il gas al centro Mi raccomando Sempre Tutti i comandi Centrali Quando andiamo A fare queste regolazioni Il roll Quindi lo portiamo Al massimo A sinistra Ora io l'ho già regolato Quindi è a 1000 E al massimo E a destra Perciò Se non fosse 1000 Cosa si deve fare Si deve andare A vedere il minimo Per cui andiamo A cliccare E vediamo Su betaflight Che si muove Eccolo E lo riportiamo A 1000 La stessa cosa Massimo Quindi dovrà essere 2000 E centrale A 1500 Comunque questi Slick Non sono proprio precisi Quindi magari Quando se lo teniamo Troppo di qua Poi ci va A 1500 Perciò Dovremmo fare Una regolazione Comunque abbastanza Precisa Però non dovremmo Diventare proprio matti Perfetto Exit E la stessa cosa Lo fate per il canale 2 Canale 3 E canale 4 Una volta Una volta che avete Tutti i valori A 1500 Centrali E se li portate Al minimo 1000 E al massimo 2000 Possiamo procedere Per cui andiamo A vedere le modalità Di volo Sempre con la batteria Inserita E il radiocomando Acceso Avevamo impostato Quando siamo andati A fare la programmazione Del radiocomando Che con questo Armavo i motori Mi raccomando Eliche smontate Con questo Armo i motori Abbiamo sentito Il buzzer Ora lo disarmo Quindi come dovremmo Andarli a impostare Andiamo ad attivarlo In pratica Voi ce l'avete Così Quindi Attiva Aux 1 E lo portate Quindi a 2000 Avanti Quindi provate Con questo Che avevamo impostato Perfetto Armato E qua Lo disarmo Poi io ho impostato Ho messo anche le voci Però vi farò vedere Poi più avanti Come fare Ora Dobbiamo solo fare Le cose essenziali Per portarlo al volo Che voli bene Modalità Angle Dovremmo fare Aux 2 Io le modalità di volo L'ho messe In questo Come ho fatto vedere Nella programmazione Sempre il radiocomando Quindi Angle Horizon Air Mod Quindi Angle Quindi attiviamo Aux 2 E portiamo la righetta Questa tacchetta colorata Dovrà rispondere Alla barra Poi Horizon Attiviamo Aux 2 Se spostiamo La nostra tacchetta colorata Perfetto Vediamo che corrisponde A questo Questo basterà Andarlo a modificare Il beeper Non ci interessa Air Mod Ci interessa Quindi attiviamo Sempre Aux 2 Qua dovremmo andare a selezionare E Se poi Portiamo appunto L'ultimo Perfetto Air Mod Perciò portiamo Tutta questa stanghetta Al fondo Perfetto Flip overclock Quando poi cadiamo Però Ve lo faccio vedere In un altro tutorial Salviamo Le modalità di volo Regolazioni Non ci interessa Salve Non ci interessa Motori Molto importante Qua Ok Dovremmo avere Le eliche tolte Dopodiché Andiamo Ho compreso i rischi Perfetto E vediamo Che si attivano Appunto Questi 4 switch Li andiamo A tirare su Piano piano E vediamo Che il nostro motore Inizierà A girare Il motore 1 Ha iniziato a girare E ora Dovremmo andare A capire Il verso Questo Ora Adesso i miei motori Girano Tutti giusti Quindi il motore 1 Girerà In senso Orario E così via Voi li provate Tutti Quindi il 2 Azionandoli Naturalmente Piano piano Il 2 Il 3 E il 4 E dovete capire Di solito Se li avete saldati Tutti uguali Avrete Due motori Che girano giusti E due motori Che girano sbagliati Ve li segnate E dopo Andremo A metterli Correttamente Ora Che ci sono segnati i motori Passiamo All'osd Osd Che cos'è In pratica Andremo a vedere I valori Che andiamo a impostare Quelli più interessanti Quelli che ci servono Sul nostro visore Per cui L'RSI Andiamo a vedere Un video dedicato Come metterlo Che cos'è L'RSI In pratica E questo valore Adesso 82 E la potenza Tra la radio E il nostro drone Quindi quanto Segnale abbiamo Molto importante Per andare in failsafe Quindi non avere più comunicazione Il nostro drone cade Io ho messo Timer 1 Fly mode Questo qua Ci segnala In che modalità Di volo siamo Angle Air mode Eccetera La media Delle celle Per cui Io di solito Vado a 360 Questa qua sopra A 3.60 Atterro E quando siamo Carichi al massimo È 4.2 Meglio che avere Tutte le celle Per cui Poi dovremo fare Un calcolo Se vogliamo In 3s Se vogliamo In 4s E niente Io tengo solamente Questi valori Poi se voi Volete aggiungere più Vedete voi Questi valori Ve li potete Spostare In pratica Se ve li spostate Col monitor acceso Vedete proprio che Il valore Si sposta E molte volte Magari Non lo vedete Perché È spostato Troppo in alto O troppo in basso Quindi Li spostate Col visore acceso E li regolate Di conseguenza Mi raccomando Salvate sempre In basso destra Continuiamo Se in solito Non ci interessa E la nostra Programmazione In Betaflight È finita Comunque Continuate a tenere La batteria accesa Io spengo un attimo Il visore Ora Disconnettiamo E andiamo Nell'altro programma Andiamo su BH Eli Eccoci qua Andiamo su Connetti Mi raccomando Eliche staccate Batteria Attaccata Radio comando Attaccato Poi Read setup Perfetto Eccoci qua Allora Io Ho già visto Che gli ESC Non sono da aggiornare Quindi li lasceremo Così Qua cosa Andiamo a fare Una volta Che ci siamo scritti I motori Che dobbiamo andare A girarli Io avevo Il 2 E il 3 Quindi Sono dato qua Normal C'era scritto Normal E ora Ho messo Reversed Perfetto Facciamo la stessa operazione Col 3 O col vostro motore Che voi avete visto Che non gira Correttamente Un'altra cosa Che facciamo In questo programma E andare a mettere E andare a mettere Due minuti Qua sotto Cosa serve In pratica Se il nostro drone Non riceve Segnali Dopo due minuti Inizierà A suonare Molto comodo Se lo andiamo Lo perdiamo Da qualche parte E non si stacca Mentre se si stacca La batteria E' un bel problema Poi andremo a vedere Anche come risolverlo Comunque due minuti E poi andremo A fare Write setup Perfetto Ora abbiamo scritto I nostri motori Gireranno correttamente Se volete andare A verificare Andiamo a fare Disconnetti Perfetto Si sta Riavviando Noi siamo pronti Per il volo Ragazzi Quindi nel prossimo episodio Vi farò vedere Come andare A volare I primi passi E poi Niente E poi divertitevi Parecchio Se non siete ancora iscritti Al canale Mi raccomando Iscrivetevi Spero che abbiate capito tutto Se avete qualche domanda Scrivetelo qua sotto I commenti Mi raccomando Seguitemi su Instagram E anche su Telegram In quanto metto sempre Offerte molto interessanti Anche per i droni FPV Se c'è qualche pezzo In offerta interessante Lo metto Ciao Da Alessandro